Io vorrei iniziare non formalmente con due ringraziamenti, uno è a Dan e di conseguenza anche a Gianni per avermi invitato a introdurre questo incontro, il che mi ha portato a leggere con attenzione il libro, cosa che in mezzo a tante altre cose forse non avrei fatto senza questo invito e avrei perso davvero moltissimo. Il secondo ringraziamento è a Gaspar e tutta la sua equip perché lo dico ogni volta che presento un libro qui ma credo che stiano facendo di questo luogo un grande luogo di cultura, di confronto che consente ad autori e a lettori di incontrarsi insieme in un clima di amicizia, di reciproca costruzione e comprensione e quindi io vorrei proprio ringraziarli con nome della nostra città proprio per quello che stanno facendo quasi quotidianamente qui alla UBIC. Detto questo io parlerò poco perché ovviamente credo sia più importante che parlino Anna e Gianni, però voglio dire cosa ha suscitato in me questa lettura. Prima avevo segnato, cercavo di segnare le cose che mi colpivano di più per poterle poi elencare, in realtà poi dopo ho rovinato tutto il libro perché quasi ad ogni pagina ci ho messo un segnale e allora ho pensato che è meglio parlarne più in generale. A me già nell'altro libro mi aveva colpito l'immagine, la fotografia che sta in copertina perché è la fotografia di una persona che attrae, che interessa, credo che tutti noi ci piaccia o non ci piaccia quando ci passa accanto qualcuno magari delle volte non lo notiamo finché non entriamo in una relazione, non ci mettiamo a parlare insieme, altre volte ci colpisce immediatamente, cioè una persona ci colpisce, i suoi occhi, il suo sguardo. Ecco e così questa fotografia mi è sembrato fin dall'inizio come l'immagine di una persona che è entrata direttamente dentro la mia vita, credo dentro la vita di ognuno che la vede e poi nessun momento non l'avevo molto approfondito dopo averla vista la prima volta la foto, mi aveva colpito, pensavo si trattasse di altro e ero incuriosito e finalmente mi è arrivato tra le mani questo libro, questo libro che ha due caratteristiche secondo me, ne ha tante, ma due essenziali. La prima è di essere un libro enormemente documentato e coi tempi che corrono non capita purtroppo spesso di trovarsi tra le mani un testo affidato non a studiosi, non a ricercatori, ma a persone che vivono ordinariamente la propria vita anche in altre professioni, non hanno il tempo di poter andare a consultare dei documenti perché fanno altro perché non è il loro mestiere. Ecco, un libro che invece proprio a queste persone racconta una storia documentata, cioè non c'è una pagina di questo libro che non sia supportata da documenti. Questa si chiama ricerca storica, questa si chiama scienza ed è una questione che secondo me è importante perché nel nostro tempo credo che uno dei drammi, uno di tanti drammi, sia quello di sparare le cose senza documentarle, cioè di vivere costantemente nella superficialità, per cui la prima cosa che passa per la testa ad uno è di dire quello che gli passa per la testa o di raccontare quello che ha sentito per la strada, che ha sentito bevendo il caffè, presentando tutto come assoluta verità, salvo poi smentirsi subito dopo dicendo non è vero, non avevo detto questo. La storia si fa attraverso i documenti, non c'è niente da fare, la scienza ci fa crescere attraverso i documenti. Quindi questo è anzitutto un libro di storia, cioè ci racconta la storia di una persona e attorno alla storia di questa persona ci racconta la storia di molti decenni del Novecento, del ventesimo secolo e attorno a questa figura vediamo dipanarsi le grandi problematiche che hanno interessato la nostra terra, ma anche la terra d'Europa, direi anche il mondo, da prima della seconda guerra mondiale fino praticamente quasi ai giorni nostri, a pochi anni dopo, a eventi a cui tutti abbiamo partecipato e che ricordiamo, come ad esempio il terremoto del Friuli o altre situazioni che Ondina e tutti noi abbiamo vissuto. Ma la seconda caratteristica, e questo lo dico così perché vorrei invogliare chi non lo ha ancora fatto proprio a leggerlo, è che è scritto bene, cioè si legge come un romanzo. È un libro di storia, stradocumentato, che segue quindi tutti i crismi della ricerca storica, ma è anche un libro scritto in modo tale che chi inizia a leggerlo poi non riesce più a staccarsi. È uno di quei libri che creano il problema di uno che magari il giorno dopo ha da fare qualcosa che richiede concentrazione e la sera prima si mette a leggerlo e poi non riesce a staccarsi fino a quando non lo ha completato. È un libro affascinante, attraente, coinvolgente. Questa è la prima cosa che io volevo dire, quindi un libro di storia ma anche un libro che si legge estremamente volentieri. Seconda cosa che volevo dire, seconda, ma non seconda per importanza. Io sono rimasto affascinato da questa figura di Ondina Petteanni, ma veramente affascinato, perché è una figura che racchiude dentro di sé tragedie, drammi pazzeschi come quello di Auschwitz che poi segna praticamente tutto il resto della sua vita, ma anche è una persona simpatica, cioè che coinvolge, che fa tantissime cose, una completamente diversa dall'altra, proiettata sempre verso l'attenzione agli altri, soprattutto ai più poveri, che incontra i personaggi più interessanti della storia italiana del dopoguerra. È una figura straordinaria anche proprio dal punto di vista della sua esperienza di vita personale, della sua famiglia. Prima quando siamo entrati, così si diceva, qualcuno diceva, una figura de modè fuori dalla storia che ci pare di vivere. Io lo dico con convinzione, secondo me è una figura pre-modè, cioè è un prima di quello che un giorno sarà, è un prima di quello che anche la nostra società vivrà. Questa grande libertà, cioè questa capacità di vivere, le grandi conquiste dell'umanità contemporanea, i diritti dell'uomo, la libertà, l'uguaglianza, le idee della rivoluzione francese, di viverle sulla propria carne, ma nello stesso tempo di schierarsi, di stare da una parte, di non avere paura, di dire io sto da questa parte, nella lotta partigiana, arrivando fino a rischiare l'esistenza ad Auschwitz, successivamente nelle file del Partito Comunista, poi nelle scelte drammatiche che si sono dovute verificare successivamente, nella grande evoluzione del comunismo italiano, nell'incontro per esempio con figure non certamente dell'area del mondo comunista come Don Milani, con un'attenzione profonda a tutto ciò che si svolgeva all'interno della società italiana, sempre pronta a scendere in campo scegliendo una parte, fino appunto al terremoto del Friuli di cui lei sente parlare perché sente il terremoto, poi legge che cos'è accaduto e immediatamente corre per poter portare anche lì il proprio aiuto, il proprio contributo, scegliendo sempre appunto come direbbe Don Milani di stare dalla parte dell'ultimo, a volte capita, a volte non capita come capita a chiunque fa questo tipo di scelta, quindi una figura affascinante dentro la sua grande sofferenza e dentro però anche la sua capacità di vivere una vita autenticamente umana e piena, ecco non c'è una pagina che non trabocchi di umanità e trabocca di umanità anche perché di lei ne parlano persone che hanno a lei voluto bene e che dicono delle cose che nascono da una relazione profonda, da un confronto con lei che non è semplicemente formale, racconto allo storico ma è un racconto che nasce e che scatturisce dal cuore. Terza e ultima cosa è che alcuni aspetti del racconto sono veramente interessanti e innovativi, insomma anche al di là delle questioni della seconda guerra mondiale e la tremenda storia di Auschwitz che viene anche sottolineata in una delle due prefazioni da Liliana Segre, al di là della sua capacità di essere sempre dentro le lotte, prima la lotta partigiana, poi le lotte operaie, anche questa segnalata con forza dall'altra prefazione di Don Andrea Gallo, ci sono alcuni aspetti curiosi, uno volevo segnalarlo ed era quando Ondina portava con sé i ragazzi a fare i campi di lavoro nella Germania Est e questa parte l'ho trovata interessante per un motivo di come si legge la storia, la Germania Est nella quale andava Ondina con questi ragazzi era la Germania Est che qui in Italia veniva presentata negli anni 60 come l'impero del male, cioè l'avamposto dell'impero del male dove la situazione era terribile, voleva dire entrare in un gelo assoluto di relazioni, di rapporti e si pensava che oltre il muro, quel famoso muro ci fosse il nulla, il deserto dei tartari e che di là non si conoscesse nulla di quello che accadeva di qua perché non c'era l'informazione e via dicendo. Il racconto di quei campi scuola in realtà è molto arguto e divertente e parla invece di incontri tra ragazzi, proprio come fanno i ragazzi ad incontrarsi, giocando, scherzando, raccontandosi la loro vita e ad esempio sulla questione dello sbarco sulla Luna di cui qua si diceva loro neppure hanno saputo che c'è stato lo sbarco sulla Luna, c'è il racconto di come a questo campo scuola e tutti si trovano nella differita del giorno dopo a vedere il lem che scende sulla Luna tenendo il sospiro per questo passo dell'umanità. Questo mi ha fatto pensare perché molte volte noi leggiamo la storia degli altri con i nostri occhi, senza la capacità di immergerci negli occhi degli altri. Adesso arrivato qui mentre aspettavo leggevo una guida della Libia per esempio e pensavo che della Libia normalmente si sa quello che i giornali ci comunicano in questo periodo, l'immagine che ne abbiamo è un'immagine assolutamente tremenda. Mentre poi leggevo in questa guida che la Libia è uno dei paesi più belli del mondo, per cui anzi leggendo mi veniva proprio voglia di andarla a visitare, come quando sono stato in Iraq dove si sa che c'è tanta gente che ci vive, che vive in questo territorio, che ha una storia, che ha una cultura, che ha mille prerogative di vita che poi ci si dimentica e vengono tutte filtrate dalla rivoluzione massmediatica che in mano al 95% delle agenzie mondiali che parlano da una certa parte del mondo ci costringono a leggere tutto il mondo sempre con gli stessi occhiali, sempre con lo stesso punto di vista. E per questo concludo che a mio parere Ondina Petteani è una donna del futuro e non una donna del passato, perché quello che lei scrive mi ha fatto venire voglia di ulteriormente, di più, di lottare perché l'umanità di domani possa essere l'umanità di Ondina, cioè di persone che magari non vivendo situazioni terribili e drammatiche come è stata costretta a vivere lei, possano vivere però pienamente nella libertà e nel desiderio di far sì che il diritto alla vita, il diritto alla legalità sia veramente un diritto che garantisce tutti, soprattutto i più poveri e gli ultimi, che sia questo l'impegno che ci possa portare tutti insieme a costruire questo mondo nuovo per il quale io direi Ondina Petteani ha dato tutta la sua vita. Io ringrazio molto Andrea per la sua introduzione che mi ha veramente commosso, ringrazio voi e veramente molto anche la libreria Ubica che è sempre così disponibile e tenta anche queste uscite editoriali, ma io volevo ringraziare Andrea soprattutto per una cosa, quando ha sottolineato che il libro è leggibile, in realtà ecco questa questione del linguaggio, del come si scrive una vita è un problema su cui ho riflettuto moltissimo, come dire, la cosa che volevo ero da un lato non usare quel linguaggio storico che allontani i lettori, perché c'è poco da dire, molti saggi storici sono talvolta pesanti da leggere e scoraggiano colui che non è proprio un appassionato o uno studioso di storia e quindi c'è una necessità di divulgazione della storia. C'è anche un uso della divulgazione a mio avviso fatto molto male, ho fatto cercando di incontrare i gusti più bassi della gente, quindi trovare un linguaggio che potesse essere accattivante ma nello stesso tempo rigoroso è una cosa che ha portato via moltissimo tempo, trovare la cifra giusta non è stato assolutamente facile. Inoltre io volevo non assumere quell'aria fintamente distaccata degli storici perché sappiamo che il distacco degli storici dalla loro materia e mera ipocrisia sono tutti dentro fino al collo e io credo che la storia sia veramente un campo di battaglia sempre pronto ad esplodere come si vede a seconda dei corsi e ricorsi storici. Quindi non assumere questa finta e falsa neutralità ma parteggiare decisamente per ondina però cercando di dare un'idea di complessità di quello che lei ha provato e del modo con cui è stata il mondo. E qua mi è venuta in aiuto quella che ormai chiamo l'etica del soffritto che mi è venuta proprio da ondina. Leggendo la sua intervista mi ha colpito moltissimo una cosa, lei da un certo punto in poi ha cominciato ad andare invitata come testimone come fanno ancora pochi purtroppo testimoni della deportazione che vanno appunto nelle scuole, lei andava nelle scuole e dopo aver parlato di questi aspetti drammatici e commoventi eccetera terminava dicendo abbiamo tanto soffritto e con questo immediatamente sdrammatizzava tutto quanto. E io mi sono interrogata molto su questo suo modo ironico di porre le cose, cioè che cosa fosse in realtà l'ironia e mi sono resa conto che Freud e molti psicanalisti danno dell'ironia così una valutazione abbastanza negativa, cioè dicono l'ironia è una forma malcelata di aggressività e effettivamente è anche vero insomma la battuta caustica che proprio si piega in due è una forma di aggressività nemmeno tanto trattenuta, però io credo che l'ironia sia anche uno dei pochi modi che abbiamo di far percepire all'altro che la realtà non è unidirezionale, che c'è che si soffre ma c'è anche il soffritto e che la vita si muove in questi due estremi in qualche modo, anzi è molto variegata e molto complessa. In questo modo tra l'altro parlando del soffritto Ondina mi ha fatto capire un'altra cosa che per me è stata fondamentale, è stata una donna che ha subito molte oppressioni e questo è indubbio ma non è mai stata una vittima, tra l'oppresso e la vittima veramente c'è un mondo, io questo l'ho capito studiando proprio la sua storia, cioè si può subire violenza, coercizione, ingiustizia però si può leggere e vivere la propria storia da protagonisti e lei ha fatto esattamente questo, lei è stata un soggetto, lei è stata una donna che ha scelto subito e tra l'altro ha scelto molto giovane, già a 14 anni, questo la dici lunga, tra i 14 e i 18 anni io sono convinta di questo, la vita di un individuo viene a compimento, poi le scelte si raffinano, diventano più serie, più maturate ma sicuramente il periodo dei 14 e i 20 anni è un periodo decisivo ed è bene anche tenere fede alle scelte fatte da giovane perché generalmente sono quelle più valide. Quindi Ondina non è mai stata una vittima, è sempre stata una donna che ha scelto consapevolmente. Qui apro una parentesi, io ci tengo molto a questa cosa della scelta consapevole perché il ruolo della donna nella resistenza è sempre stato visto secondo me in modo molto molto mortificante per le donne. Allora ci sono tre cose che mi sono venute in mente. uno durante la liberazione, immediatamente dopo la liberazione, l'impedimento in molte città a che le donne sfilassero in armi con i partigiani. Le donne è stato impedito dagli stessi partigiani di marciare con le armi perché era disdicevole far vedere che uomini e donne fossero assieme in montagna e le donne pure armate. Successivamente, nell'immediato, prima o dopo guerra, è venuta avanti questa accezione del contributo femminile alla lotta di liberazione che è una cosa assolutamente sbagliata perché non tiene conto di quello che hanno fatto realmente le donne e cioè un'attività che non era di supporto ma era un'attività essenziale per la lotta partigiana, cioè una lotta di quel tipo senza l'apporto sul terreno, così si chiamava, in città, nei paesi delle donne non sarebbe sopravvissuta neanche un mese. Chiunque conosca appunto la lotta popolare, la guerriglia sa benissimo che senza l'aiuto della gente che in città raccoglie soldi, i viveri medicinali, i porti informazioni, trasmette le direttive, in montagna non si riesce a fare assolutamente nulla. Quindi le donne non hanno dato un contributo ma sono state parte integrante. Ultimamente è venuta fuori un'altra nouvelle ward storica che è quella della eravamo giovani inconsapevoli. Ora come giustamente ricordo Undina erano giovani sì ma niente affatto inconsapevoli perché il fascismo è l'inizio della resistenza nel nostro territorio che è data 1941 per cui l'Undina Petrania è la prima staffetta parteggiana d'Italia è una lotta diciamo che immediatamente si fa dura. Ecco non c'è bisogno di aspettare l'occupazione dei tedeschi di questo territorio ma da subito dal 42 l'ispettorato speciale di pubblica sicurezza comincia a perseguitare, incarcerare, torturare i partigiani in posti anche raffazzonati, casarme dei carabinieri, casarme di militari, posti di polizia. Quindi una struttura del fascismo che funziona prima dell'occupazione e funzionerà anche dopo, estremamente che si va facendo sempre più efficace ed efficiente nel perseguire, nel prendere, nel catturare, nel far parlare i partigiani. Quindi una struttura dove inevitabilmente l'uso della tortura è una cosa normale perché altrimenti non si possono catturare i partigiani e sanno i metodi che vengono usati. Quindi se scelgono di fare la lotta partigiana di opporsi al fascismo lo fanno a ragione di due. E' chiaro che lo fanno anche con un certo entusiasmo dei 14, 15, 16 anni. Ondina nasce a Trieste e si trasferisce a Vermegliano. La sua storia è una storia operaia. Lei va a lavorare nei cantieri di Monfalcone. I cantieri di Monfalcone sono l'università della politica, come dicevano alcuni cantierini. E comincia quindi questo apprendistato in fabbrica e in quella famiglia speciale e incredibile che è la famiglia Fontanotte, di Ronchi dei Legionari, che adesso stiamo finalmente studiando e che ha una vicenda ricchissima. Lì inizia facendo il soccorso rosso e poi inizia con Mario Caris la vera e propria attività partigiana. E viene, come dire, viene incarcerata una prima volta nel luglio del 43 con tutto, Ronchi, tutto a Vermegliano e poi una seconda volta definitiva nel 44, nell'inverno del 44, viene poi deportata ad Auschwitz e tornerà a casa nel 45. E' chiaro che l'esperienza dell'Ager è l'esperienza centrale della sua vita. Lei parlerà nella sua testimonianza del fango di Auschwitz e se andiamo ad Auschwitz, io ci sono andata un mese fa, si capisce che cos'è il fango di Auschwitz. E' qualcosa di materiale ma anche di morale, di psicologico, cioè un abbruttimento della condizione umana che si fa fatica a ricordare, diciamo. Ma molte cose ho dovuto dimenticare o metabolizzare, ho dovuto anche metabolizzare il fatto che la sorella fosse una spia dei tedeschi ad esempio, che fosse quindi per questo uccisa dei suoi compagni. Quindi una serie di tragedie personali molto forti, che spiegano secondo me il silenzio di chi ritorna dalla resistenza e dai Lager come difficoltà anche di raccontare la paura, lo stress, i drammi di quello che ha significato all'opporsi al fascismo e al nazismo. Ecco, quando Undina è tornata dal Lager, pesava 40 kg, era alta 1,70 m, e quando è morta pesava 40 kg ed era alta 1,70 m. In questo circolo che si è chiuso, si era chiusa la sua esistenza, che è stata un'esistenza tutta attesa a limitare, come dire, mettere in un angolo, disinnescare il discorso di Auschwitz, che è rimasta una cosa assolutamente indenebile e che rischiava di tracimare invadendo la sua vita. Quindi la sua vita doveva essere piena di cose ed è stata piena di tantissime cose molto piacevoli anche il lavoro che ha fatto. Lei era uscita dal Lager devastata anche fisicamente, per cui non ha potuto avere figli, quindi l'adozione di Gianni, una vita felice con Gianluigi Brousadine, che era giornalista e amico di Tina Merlino, tra l'altro, una vita professionale ed ostetrica, proprio lei che non poteva avere figli, aiutava le amiche a partorire in casa, poi una vita di libraia e organizzatrice culturale in questo straordinario posto che è stata la libreria degli editori riuniti, che era un posto di cultura, di dibattito, di discussioni, e poi via via le attività che ha fatto durante il terremoto e questa centrale, con questo chiudo, per soffermarmi su quest'ultimo aspetto, sull'importanza della memoria, cioè il fatto che la storia si dipani attraverso la vita di una persona, un fatto del tutto naturale, cioè la vita degli individui e la storia non sono due cose antitetiche, ma sono due cose strettamente intrecciate al punto, come dicono molti storici, è praticamente impossibile distinguere in noi quello che è storico da quello che è individuale, anzi, molto più quello che abbiamo di storico che ciò che abbiamo di individuale, dicono i più estremisti. Comunque sono due aspetti assolutamente intrecciati, quindi i documenti si saldano con la vita degli individui, ed è molto importante raccogliere le memorie, perché le memorie sono però più leggibili, più utilizzabili, per esempio, dal punto di vista didattico. Sulla questione di quello che lei ha fatto per i giovani, si è aperto un capitolo, cioè lei a un certo punto, per dare una compagnia buona a Gianni, per impedire che in una Trieste degli anni 60, attraversata da cattive compagnie, perché era una città con sacche molto grosse di miseria, alcolismo, eccetera, quindi per dare a Gianni il meglio, come sempre aveva voluto fare, crea questo gruppo di giovani, figli di comunisti, perché tutta la storia del PC tristino è la storia di un gruppo che è autosufficiente, dove dall'ostetrica, al falegname, all'elettricista, al medico, all'intellettuale, tutto si trova lì, cioè non si va a cercare fuori, nel PC c'è tutto, e si vive dentro il PC, è una comunità chiusa, autosufficiente, un po' autoreferenziale, ma è comprensibile nel periodo della guerra fredda, particolarmente duro a Trieste, quindi si vive assieme, quindi i figli dei compagni danno a Dondina i loro bambini, perché lei li faccia socializzare e li porti in giro in Jugoslavia, ma anche più in là, appunto nella Deder, affrontando lei da sola con un bel numero di ragazzini imprevisti, accidenti, viaggi, problemi di ogni tipo, campeggi, facendo da mangiare, lavando i piatti, insomma affrontando fatiche inenarabili, e anche a responsabilità inenarabili, però queste persone si fidavano di lei e quindi incrociando le dita davano anche questi bambini. Ora, cosa può risultare più massificante, ideologicamente conformista dei pionieri del Partito Comunista Italiano, se uno sente adesso ha in mente la gente telecomandata con la chiavetta dietro, eppure tutte queste persone che io ho intervistato hanno descritto questa loro adolescenza come un'adolescenza di estrema libertà, in cui si stava ragazzi e ragazze, i lavori erano divisi, si fuggiva da Ondina che era sola guadagnando grandi spazi di libertà, si fumavano le prime sigarette, si scambiavano con quelli dell'est, i blue jeans, a prezzi inenarabili, insomma, un'esperienza di grandissima libertà. Senza la memoria sua questo non sarebbe emerso come uno degli aspetti della realtà, che non significa che poi non ci sia stata nella DDR le vite degli altri, certo c'è stato il controllo, nessuno lo nega, ma accanto a questo c'era anche dell'altro, perché la realtà è questa, non è monocromatica, e credo che questo sia un esempio di una vita che scompaggina un po' le certezze così consolidate, sulla politica, sull'umanità, sull'agare, che da questo punto di vista vale la pena conoscere la vita di Ondina. Grazie. Buonasera a tutti, grazie di essere così numerosi, complimenti per la bellissima libreria che non conoscevo, grazie al titolare, grazie ad Andrea che nemmeno conoscevo, che ha speso parole bellissime, grazie a Anna con la quale è iniziata questa collaborazione. La storia, il backstage di questo libro è abbastanza articolato e complesso, nasce da una scelta, da una scelta che mi sono trovato individualmente dinanzi alla scomparsa di mia madre, ossia lasciare per terminare un momento di grande difficoltà, protratto sino un poco, ma quasi 12 anni, è stata la sua malattia, all'apice la bombola d'ossigeno che la bloccava a casa, per cui una sorta di tigre in gabbia proprio, accompagnarla tentando in tutti i modi di farla sopravvivere alla depressione nervosa che dopo la scomparsa di mia madre, l'aveva, dice, di mio padre, l'aveva riportata in basso, dopo il primo esito del 1975, e insomma si chiudeva per me una fase abbastanza complessa, delicata e dura. C'è stato, ci è voluto poco per comprendere che questo avrebbe assolutamente portato a dispersione e per questo l'avvenimento dell'incontro con Anna di Gianantonio è stato per me, ha corrisposto con una scoperta, una scoperta di chi fosse realmente mia madre, ovviamente mia madre si è sempre espressa in tutta la vita con me, in tutta la vita in famiglia, con i miei amici e con tutta la collateralità molto aperta di una sorta di grande casa comune, in maniera informale e quanto mai diretta sui suoi pregressi, non era una novità per me, nemmeno la deportazione, cosa che venne a sapere da quando ho memoria la sua lotta partigiana, però tutto quanto era misurato ed espresso ovviamente, primo con pudore, secondo con riservatezza, in maniera schiva come sempre, come era sempre di rigore nel suo, nel suo ruolo anche di madre e tralasciando appunto tutta una gamma e che ho scoperto dopo infinita di pesanti malesseri legata ovviamente in primo all'esperienza dura del lager. Per cui questi 12 anni di malattia a contatto mio padre non c'era più, noi parenti a Trieste non avevamo, mi sono trovato a sorreggerne le sorti. Via via la malattia come qualsiasi evento patologico non migliora, ma in parallelo con l'età che avanza peggiora, i freni inibitori cominciano a essere più labili e deboli e tutto ciò che lei in tutta la vita appunto aveva conservato e chiuso in una specie di sarcofago di cernobi sotto una coltre di cemento ben protetta, da questo scrigno gli ultimi periodi ha cominciato a presentare delle fenditure, da queste fenditure ha cominciato prima ad insistere più del normale su tematiche principalmente del lager e poi in maniera ossessiva laddove violenta anche. Gli ultimi periodi era di giorno anche, parlo dell'ultimo anno, rapita da incubi, incubi che puntualmente gridavano in tedesco, gridavano in polacco, avevano gli stivaloni neri e il pastore tedesco con il nazista con la frusta vicino. Per questo insieme di fattori una sorta di desiderio di farla finita anche da parte mia me l'ha sommesso assolutamente via e ho dato corpo appunto a questo incontro con Anna. Ho detto è stata una scoperta, è stata una scoperta conoscere e presentarmi da tutta la grande massa di interviste che abbiamo realizzato per cui da altre tante persone, altre tante persone di pari età, per cui gente del 25, del 20, gente nel momento del... abbiamo iniziato nella metà del 2003, 2004 circa fittamente a fare le interviste, gente che abbiamo spesso rapito al volo perché già oggi il 50% quasi degli intervistati ai noi non c'è più. Per cui abbiamo un... è realmente fissato sulla carta delle memorie, non soltanto legate al personaggio di Ondina Peteani, di mia madre, ma proprio a un insieme storico delle vicende nostre del nord-est. la mia funzione di figlio è stata quella un po' di... assolutamente non di timone, lo reggeva Anna il timone, però quello di insistere forse più del dovuto, ma il risultato è stato eccellente, sullo storico, lo storico che innegabilmente per sua prassi e ruolo argomenta la storia in maniera asciutto e... oggettivo. Grazie ad un parlamentare talvolta anche acceso con Anna, la mia posizione assolutamente emotiva, emozionale e soggettiva è stata accettata ed è stata accettata lo stesso fluire che è emerso in maniera dirompente da tante e tante interviste. Per cui, come ringrazio ancora Andrea, ha sottolineato prima, non si parla soltanto dell'evento storiografico, non è soltanto un'elencazione abbastanza sterile, come spesso la storia è, questo libro, ma è un intreccio emotivo di fatti, relazioni e affetti. Questo, dalla prima versione di questo libro, l'interesse di una giovane e talentuosa attrice, Marta Cuscuna, che abita a Vermegliano, dove è cresciuta mia madre e incredibilmente abita nello stesso cortile dove c'era la prima abitazione di mia madre, ragazza che noi non conoscevamo, si è presa il libro, si è appassionata alla vicenda e ha creato un lessico teatrale, portando e presentando questo suo lavoro a un concorso nazionale, al premio scenario perustica, che puntualmente ha vinto con questa sua trasposizione e a tutt'oggi ha superato le 86 repliche in tutta Italia, andando in tre date successive a Roma, tre a Milano, due a Palermo, due a Palermo, andare per una ragazzina di 29 di anni, gira in due, lei e il tecnico Luci, che è il suo ragazzo, e l'ambientazione, l'ambientazione è la miniatura di un carro bestiame, lo stesso carro con cui, vagone bestiame, con cui partivano i deportati e con cui partì anche mia madre il 31 maggio all'alba da Trieste. Per cui ci siamo trovati in corso d'opera, adesso in tre in pratica su questo progetto. Anna, che ovviamente è colei che al 90% ha prodotto questo libro in maniera assolutamente congeniale alle vicende. C'è un 10% anche più, forse, di mio contributo diretto, dove a causa di una memoria in eccesso che ho, che non mi permette magari come tutti gli anziani di ricordare cosa ho mangiato ieri sera, però ricordo ai noi tutti i numeri di telefono dalla prima abitazione quando avevo 5 anni. E ciò mi ha dato la possibilità di ricordare particolari, anche assurdi ma divertenti, della prima esperienza cui mia madre fu capo Branco nel 1969 a Berlino Est, in una concatenazione assurda di posti e di luoghi dove una deportata in un lager nazista di suo, verrebbe da pensare, non ci andrebbe mai. Invece tutta la mia vita è stata costellata anche dalla liberazione di mia madre da una somma di fattori peraltro demoniaci per tanti deportati. Per cui abbiamo pensato anche io, Anna, che lei abbia in un certo senso giocato contro qualche impulso negativo che su ciò che adesso accennerò poteva e doveva opporsi, ossia tutta la vita lei aveva avuto pastori tedeschi, insomma un deportato, quel pastore tedesco, sempre morto, uno è stato sostituito dall'altro, cani oltretutto umanizzati in maniera quasi ridicola. Riceve un invito per andare dove? A Berlino Est, a 60 km da Berlino Est. Lì vicino c'è Eberswalde che era uno dei luoghi di detenzione dove lei dopo Auschwitz viene deportata e attua un primordiale rallentamento della produzione bellica perché c'era una fabbrica di munizioni per cui riesce a innescare la formula del sabotaggio con sorrisi dicendo che le punte del tornio, tornio che aveva imparato a usare nel cantiere di Monfaicone, per cui tutto si lega devo dire la verità nella sua storia in questo libro, riesce ad assumere le sembianze di una ragazza tremenda, una addirittura zelante nella produzione di bombe che invece rallenta. per cui nel 1969 in concomitanza di una visita in quella località di Walter Ulbricht, allora presidente della Germania democratica tedesca, viene organizzato questo passaggio di mia madre, questo invito in questa postazione, in questo lager. Ulbricht in quel periodo deve cambiare rotta, ci sono le ultime settimane di vita di Ho Chi Minh e parte per il Vietnam, ovviamente non c'è questo incontro che sarebbe stato quasi paradossale, però è la prima volta che lei entra in un suo, diremmo, lager, non ha mai voluto ritornarci in nessuno dei tre che l'hanno trovata coattamente prigioniera a Auschwitz, Eberswalde e Ravesbruch. Qui si è trovata e con grande emozione ha affrontato e con nessuna voglia questo incontro davanti alle maestranze e tutto quanto con la pompa logicamente consona a un regime che dava il meglio di sé in qualità di esibizione di una funzionalità assoluta. Complessivamente l'esperienza di questo libro mi ha portato a conoscere quanto lei non mi abbia raccontato e quanto peso e difficoltà per lei l'esperienza della resistenza che lei per prima riassume con una definizione di complessivo e straordinario entusiasmo, sia stata così però sia stato un momento di atroce sofferenza, atroce sofferenza sua familiare, lei è appunto la sorella passata per le armi da parte dei suoi compagni di battaglia, lei stessa che diviene per un periodo considerata la spia finché entra in gioco la madre, questa madre, mia nonna diremo che saputa la verità di un incontro che deve essere segreto deve decidere tra due figlie, deve decidere quale oggettivamente era innocente, ondina, e quale purtroppo era colpevole, santina. Passaggi tremendi, tremendi che portano alla configurazione di un libro insomma che possiamo definire come minimo tosto però anche divertente perché appunto dopo avervi detto tutte queste cose abbastanza severe devo dire che mia madre era una persona assolutamente divertente, fuori dagli schemi, originale, contro tendenza e controcorrente e certamente a tutt'oggi spassionatamente moderna. Grazie.